buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale youtube per chi non mi conosce io sono elisa sono sarta e condivido con voi tutto quello che so del mondo del cucito arriva un periodo dell'anno davvero magico e nel box domande instagram di qualche giorno fa vi ho chiesto che cosa vi sarebbe piaciuto vedere realizzato mi avete risposto idee regalo per natale ecco perché ho deciso di fare una serie di video tutorial abbastanza frequenti nei quali vi proporrò dei progetti facili semplici realizzabili anche all'ultimo minuto da poter regalare nel video tutorial di oggi parto con un progetto super facilissimo vedremo come si cuce un sacchetto portadoni che vi proporrò in tre versioni diverse andiamo a cucirlo dimenticavo se volete ovviamente vedere tutte le idee regalo che vi proporrò nei prossimi video tutorial iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanella così verrete avvisati alla prossima uscita del video e se vi va seguitemi sulle mie pagine instagram e facebook trovate i link qua sotto per realizzare la prima versione del sacchettino regalo portadoni abbiamo bisogno due pezzi di tessuto esterno e due pezzi di fodera il tessuto e la fodera saranno tagliati dalle stesse medesime dimensioni di che dimensione allora nel mio caso ho tagliato 27 centimetri per 21 centimetri compreso i margini cucitura ma le dimensioni variano dall'ampiezza del sacchetto che volete realizzare potete farli più piccoli potete farli più larghi e più stretti potete farli della misura che volete prendete un foglio di carta e provate a tagliarlo vedere di che misura potrebbe venire il vostro sacchetto in quello che sarà il fondo tagliate sia da un lato che dall'altro di tutte quattro le parti quindi sia delle due parti in fodera che delle due parti di tessuto un quadrato di quattro centimetri per quattro centimetri questo è il quadratino che sono andata a tagliare quattro centimetri per quattro centimetri questa misura determinerà la profondità del sacchetto quindi anche questa misura potrebbe essere variabile vi farò vedere quando il sacchetto sarà terminato facendo quattro centimetri per quattro centimetri quanto vi verrà di profondità sul tessuto esterno a distanza dall'alto di quattro centimetri faccio un segno e faccio un ulteriore segno a distanza di sette centimetri anzi facciamo sei e mezzo questo sarà il punto nel quale passerà il cordino anche dall'altro lato faccio il mio segno a quattro centimetri e il mio segno a sei centimetri e mezzo perché faccio a quattro centimetri sei centimetri e mezzo perché tutto dipende dal diametro dallo spessore da quanto è fine o meno il vostro cordoncino se voi decidete di mettere una fettuccia di due centimetri la farete circa di tre centimetri se voi avete un cordino piccolo 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 potete anche fare un centimetro io faccio due centimetri e mezzo nonostante il cordino sia un pochino fine la distanza dall'alto ovvero dove fare il tunnel chiamiamolo così per il cordoncino dipende dai vostri gusti potete farlo subito in alto o potete farlo anche in basso se lo fate in basso ovviamente vi verrà più parte arricciata nella parte alta del sacchetto se lo fate in alto per farmi capire la parte arricciata dell'alto del sacchetto sarà più bassa blocco i tessuti della parte esterna dritto contro dritto e mi segno con gli spilli il punto dove ho deciso che dovrà passare il mio cordoncino perché perché ora dritto contro dritto facciamo una cucitura che parte dall'alto arriva al primo spillo facciamo una salda ripartiamo dal secondo spillo facciamo l'avanti e indietro e cuciamo fino al fondo sia di qua che di qua dopodiché faremo una cucitura lungo il fondo da qua a qua come vedete ho realizzato la cucitura laterale lasciando i due centimetri di apertura sia da un lato che dall'altro per quanto riguarda la fodera faremo la stessa cosa faremo la cucitura laterale sia di qua che di qua la cucitura sul fondo ma questa volta faremo una cucitura unica senza lasciare nessuna apertura fatto questo per tutti e quattro gli angoli andiamo ad aprire il tessuto in questo modo facciamo combaciare bene le cuciture e puntiamo bene con gli spilli ora facciamo la nostra cucitura a un centimetro per tutti e quattro gli angoli capovolgo il sacchetto al dritto e vedete che abbiamo dato profondità questa profondità è di otto centimetri abbiamo fatto il quadrato 4 per 4 se volete dare una profondità più ampia quindi magari 10 cm il quadrato lo farete di 5 cm per 5 cm arrivate a questo punto sacchetto della della parte bella al dritto sacchetto di fodera a rovescio inseriamo il sacchetto all'interno del sacchetto in fodera e facciamo combaciare bene tutte quante le cuciture mettiamo gli spilli e realizziamo la cucitura tutto attorno ma attenzione perché prima mi sono dimenticata di dirvi una cosa e non solo di dirvela ma anche di farla quando cucite il fondo della fodera dovete lasciare una piccola apertura per poter poi girare il sacchetto quindi perdonatemi se lo state facendo insieme a me se l'avete già fatto un pezzettino del fondo va aperto perché altrimenti non riusciamo a rovesciarlo quindi faccio la mia cucitura tutto intorno prima dei passaggi successivi quando avete realizzato la cucitura vedete che io l'ho fatta dovete stirare bene fin dove arrivate con il ferro da stiro queste cuciture aperte è indispensabile che siano belle aperte e belle appiattite perché altrimenti non riuscirete ad inserire il cordino ora posso piano piano rovesciare il mio sacchettino chiaramente una volta che l'avremo rovesciato l'apertura che abbiamo lasciato sul fondo l'andremo a chiudere o con scusate l'uscita dall'inquadratura o con qualche punto macchina oppure con un punto a mano e andiamo poi a inserirla all'interno del tessuto dritto così stiro bene la parte superiore del sacchetto la fisso bene con gli spilli perché adesso dobbiamo andare realizzare due cuciture vi ricordate che abbiamo lasciato l'apertura a quattro centimetri quindi dobbiamo fare una cucitura a inizio apertura tutto intorno al sacchetto quindi anche sopra l'altra apertura a quattro centimetri dopodiché faremo una seconda cucitura a due centimetri e mezzo che è la fine della nostra apertura se volete potete segnare la linea di cucitura con degli spilli oppure con un gessetto o una penna cancellabile macchina da cucire braccio libero inserisco il sacchetto assicuratevi che i margini di cucitura siano aperti e iniziate a cucire vedete che ho realizzato due cuciture parallele due cuciture due aperture perché perché in questo caso andrò a inserire due cordini e avremo la possibilità di chiudere sacchetto tirando i cordini dai lati volendo potete anche lasciare una sola apertura da un lato e mettere un cordino che praticamente tirate solo da una parte con una spilla da maglia inserisco il cordino allora il primo cordino andrà inserito da un lato del sacchetto andrà fatto fare tutto il giro e uscirà dallo stesso lato il secondo cordino andrà inserito dal lato opposto farà tutto il giro e uscirà nuovamente dal lato opposto ho inserito il primo cordino da questa apertura gli ho fatto fare il giro e sono uscita di nuovo da questa apertura ora il secondo cordino farò di nuovo tutto il giro ma interrò ed uscirò dalla parte opposta per sapere quanto lungo deve essere il cordino misurate la circonferenza del vostro sacchetto nel mio caso il cordino è corto quindi misurata la circonferenza del sacchetto e aggiungete 5 6 cm per lato più o meno poi all'estremità del cordino io ho fatto nudino ma chiaramente potete aggiungere delle perline dei ciondolini qualsiasi cosa per abbellirlo io ho già riempito questo sacchetto di caramelle e se noi andiamo a tirare la corda questo sarà il nostro bellissimo sacchettino a me piace tantissimo ora però ne vediamo una seconda versione più che versioni diciamo che sono piccole varianti in questo caso infatti i procedimenti saranno completamente quasi completamente identici ma con una variante ovvero in questo caso come potete vedere ho lasciato la fodera 5 cm più alta nella parte dritta ho lasciato sempre la mia apertura ma sono rimasta un pochino più vicino al bordo ovviamente ho calcolato che ci sarà un margine di cucitura quindi faccio la mia cucitura laterale lasciando l'apertura come prima cuccio il fondo del dritto cucitura laterale da un lato dall'altro della fodera cuccio il fondo della fodera lasciando una piccola apertura e chiudo gli angoli come ho fatto nel sacchetto precedente continuate quindi lavorare il sacchetto allo stesso identico modo e quando rovescerete e inserite la fodera e la farete combaciare al fondo vedrete che quei 5 cm che abbiamo lasciato di fodera in più ve li troverete nella parte alta questo è un modo per giocare con i colori perché voi potreste anche fare solo il fondo con un tessuto e tutta la parte alta con un tessuto diverso quindi inseriamo come abbiamo fatto in precedenza i nostri cordini non prima ovviamente di aver fatto le nostre cuciture il nostro canalina se il nostro primo sacchetto era così mantenendo la fodera più lunga o comunque il tessuto interno più lungo il risultato sarà questo che avremo la parte alta di un colore diverso ovvero di quello del nostro tessuto interno la terza versione non la chiamerei proprio versione perché in questo caso ci allontaniamo un pochino dal sacchetto e ci avviciniamo alla shopper nonostante i passaggi siano quasi tutti uguali questa volta sulla parte del innanzitutto questa volta ho fatto un pochino più grande i miei rettangoli e sulla parte del fondo sono andata ad adesivare un rinforzo di modo da dare maggior rigidità al fondo anche con i sacchetti lo potete fare potete mettere rinforzo sul fondo o comunque rendere rigido il sacchetto la shopper mettendo rinforzo su tutta proprio la parte rovescia del tessuto esterno in questo caso io ho tagliato 30 di larghezza e 35 di lunghezza dopodiché ho tolto i miei quadrati di misura a 5 centimetri e mezzo per 5 centimetri e mezzo oltre queste due parti questa volta aggiungeremo dei manici quindi ho tagliato una striscia larga 9 centimetri l'ho piegata in due ho eseguito una cucitura a un centimetro l'ho rovesciata e ora la stiro bene questo per entrambi le strisce che saranno i nostri manici nel mio caso i manici sono lunghi 55 centimetri ma poi una volta che li appoggiate al vostro sacchettino o la vostra base vi renderete conto di se li volete più lunghi se li volete più corti quindi anche in questo caso la misura sarà a vostra discrezione come abbiamo fatto per gli altri sacchetti ma questa volta senza lasciare nessuna apertura laterale chiudiamo i lati chiudiamo il fondo chiudiamo gli angoli sia della fodera che del tessuto quando abbiamo assemblato i due sacchetti prendiamo quello della parte esterna i manici dritto contro dritto alla stessa distanza delle cuciture laterali puntiamo i manici e li blocchiamo con uno spillo la parte alta del manico sarà rivolta verso il fondo del sacchetto in questo modo li blocchiamo con una cucitura sia da una parte che ovviamente anche dall'altra seguiamo ora il procedimento che già conosciamo quindi fodera rovescio sacchetto al dritto manteniamo i manici verso l'altro inseriamo un sacchetto all'interno dell'altro facciamo combaciare bene tutte le cuciture e realizziamo la cucitura tutto attorno rovesciato il sacchetto e la shopper in questo caso è chiusa l'apertura della fodera se non volete che la fodera esca verso l'alto vi consiglio di fare una piccola impuntura a filo a un centimetro alla distanza che preferite ricordatevi che questa shopper la potete fare di dimensioni anche enormi quanto piace a voi che così la vostra shopper e i vostri sacchettini portadoni saranno pronti in arrivo però tantissime altre idee regalo ve li faccio vedere bene di nuovo a me piacciono tantissimo ora potete confezionarle ed usarle per inserire tutti quanti i vostri regali ma sono in arrivo ancora tantissime idee pensierini regalini di natale velocissimi quindi se non ve li volete perdere iscrivetevi alla mia pagina e cliccate sulla campanella così verrete avvisati quando pubblicherò il prossimo video ci vediamo prestissimo con le idee regalo di natale ciao